costretta la scuola per l'ampletto il pubblico ritorno e il pubblico 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 grazie a dios hasta i parò la lava però di tutte maneras il humo famiglia la erupzione del 3 de junio e stanno caendo di questo all'estero si viene un rio de lava e entrò in le viviendas iniziando labore per 20 minuti arrivavamo adentro si nos dio la ordine di evacuare debido a che si vio il descenso di un lajar per espacios bastanti complicati arriba de los techos de las viviendas grazie a tutti